Eccoci qua, ciao a tutti amici di Ratti Auto, io sono Brian, eccoci tornati con un nuovo video Come sapete da noi ci sono più di 500 auto disponibili, chilometro zero, aziendali, usate, insomma ce ne è per tutti Oggi sono qui per mostrarvi tre delle auto che a mio parere sono le migliori per chi si approccia per la prima volta ad un altro veicolo La mia prima auto da neopatentato ad esempio è stata una Citroen C2, piccolina, abbastanza potente Insomma una buonissima auto per approcciarsi al mondo della guida Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate e vi lascio al video, ciao Beh che cosa dire di questa, dovreste già conoscerla tutti quanti Soprattutto se siete dei Ratti Lovers, è proprio lei la C3, questa con l'allestimento Shine, è una 1.2 da 82 cavalli Quindi ottima come prima macchina, ha tutta la tecnologia che vi serve Comoda, spaziosa, sicura soprattutto grazie agli air bumps, insomma una sicurezza in più Ma anche un tocco di classe alla nostra auto E questa da noi la trovate a chilometro zero Beh insomma ragazzi è un classico, è un classico Peugeot 208, 1.282 cavalli, perfetta per ogni neopatentato Comoda, spaziosa, con la giusta tecnologia E poi insomma diciamolo, come prima auto ci sta un botto Questa ragazzi è senza ombra di dubbio la mia preferita tra le auto per neopatentati Che dire, questa non ha bisogno di presentazioni Renault Clio, qui da noi potete trovarle usate Questa in particolare, nonostante sia 1.5 di cilindrata Ha comunque 75 cavalli e 55 kilowatt di potenza Quindi rimane dentro i limiti per i neopatentati Riguardo al veicolo cosa possiamo dire? È spazioso, tecnologico E in particolare parliamo della versione diesel Sicuramente questa ve la consiglio come prima macchina Perché ha un taglio molto sportivo Poi è spaziosa, con 5 posti E questa in particolare ha anche un ottimo impianto audio Insomma tutte piccolezze non da poco Questo video finisce qui Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace lasciando un bel like Vi ringrazio per la visione, ci vediamo a un prossimo video Ricordatevi di iscrivervi al canale E di visitare il nostro sito che trovate nella descrizione Al prossimo video, bella! Ciao!